la ripresa con lui facci la magnetta ha fatto un match da professionista è la prima ripresa preciso eh rapido eh due mani sulle mani uno dot dai rapido rapido bravo e dopo destra e sotto stai corto eh rapido rapido la ora la ora dai bene subito a ritmo forza subito preciso eh crocialo crocialo sulle mani e crocia dopo che a destra dritto a destra dritto a destra bravo dopo a destra dritto bravo bravo ripallo bravo ma fino a sotto sotto fino a che l'armi non mi c'è soffa l'ora via vinci ma fai la tinta fai la tinta fai la tinta baila baila alla ora e press pinza vado sotto sopra sopra sotto sopra sopra e press guardina la ora la ora fai fless fless hop hop tre hop bravo 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 ora ora disto dentro adesso ora continuiamo prima bravo bello bravo 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 Fala finca! Fala finca! Ora, ora, ora! Ma presti due raccocci dritti? Fala finca! Ora, ora! Uno, finca tre! Uno, tre! Fala finca! Fala finca! Dieci secondi! Felicidades! Felicidades! Fala finca! iva, se theo los baimientos de la mano a otro alain Fala finca! Teoo, he, sta? lerin Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.